Si faceva subito sul serio per il Forlì, dopo il turno di sosta i Galletti avevano necessità di fare bottino pieno contro la Correggese ed è un match in cui il Forlì parte forte, ci prova con questa chance sottomisura, la conclusione di Pari, la palla che viene salvata dal portiere poi dalla distanza, conclusione sul fondo. Il protagonista dunque Bertozzi, il protagonista Ila Forlì al diciannovesimo con questo dialogo a centrocampo, palla che viene allargata sulla sinistra per la discesa da parte di Rapai, sulla sinistra il cross per la deviazione di Bertozzi. Poco da segnalare nella prima frazione, ci spostiamo addirittura al quarantesimo con il cross di Rapai sul secondo palo, sponda, conclusione di testa, il salvataggio sulla riga di porta. Grande salvataggio da parte di Ballardini su questa conclusione, ma la Correggese è in agguato, grande discesa in questo caso di Diabì, palla che diventa buona sul secondo palo. Per Carrasco, Ravaioli evita la capitolazione, ma il fatto è rimanato di appena un minuto, la deviazione sottomisura vincente per la Correggese, quella di Simoncelli, sottoporta esultanza alla Cassano. Rotta la bandierina, brutto gesto lo dobbiamo dire, ma bandierina che poi verrà ripristinata, così come nella ripresa. Il Forlì prova subito a rimediare con questa conclusione alta da parte di Eleonori Forlì, che prova a cambiare marcia. Siamo al cinquantacinquesimo minuto, dialogo tra Pari ed Eleonori proprio, pallone allargato sulla tre quarti. La possibilità, effettuata la conclusione da Rappai sul fondo. Al sessantottesimo però, calcio di punizione per la Correggese, gioiella autentico, quello trasformato in oro sonante dalla squadra ospite da Manuzzi. Conclusione vincente per lui, 2-0 in casa della Forlì. E a questo punto sì che i Galletti devono cambiare marcia, 2 minuti più tardi di nuovo in attacco la squadra padrona di casa. La grande risposta da par suo, Amedeo Ballardini riapre l'incontro all'incrocio dei pali. Questa conclusione esultanza polemica, rivolta forse nei confronti di qualche sostenitore che aveva un po' fischiato il Forlì. Dopo il doppio svantaggio, comunque c'è la possibilità per rimediare, c'è però una conclusione completamente sbagliata da parte di Variale. Alla settantatreesimo e poi alla settantacinquesimo si esaurisce sostanzialmente la spinta offensiva della Forlì con Nardella. Che calcia alto e poi un quarto d'ora finale piuttosto confusionario per la squadra padrona di casa. che in pieno recupero ci prova con Ronchi completamente sbagliata la sua conclusione per cercare di impattare. Un match che invece va in archivio con la vittoria della Correggese col punteggio di 2 a 1.